Il Signore sia con voi e con i suoi figli al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Vespagne, presso il monte dei Tuditi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro, andate nel villaggio che vi sta di fronte. Subito troverete un'ati navigata e con essa un culetto. Sognetevi e conducetevi a me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete, il Signore li ha bisogno, ma li rimanderà subito. Ora questo avvenne perché si aderrisse ciò che era stato l'impiato dal profeta. Dite alla figlia di Sio, ecco, il tuo re viene a te, un iglio, umido, seduto su un'asina, con un puledro, iglio di bestia da solo. I discepoli andarono e pesero quello che aveva ordinato Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli, ed egli li si posse sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dal gianto e li stendevano solo via. La folla che andava in lancio, e quella che veniva dietro gridava, Cos'andà, figlio di Davide, ve le metti con voi che viene nel nome del Signore. Cos'andà, figlio di Davide. Cos'andà, figlio di Davide.